no ciao a tutti i bei uomini belle donne sono strategico call of duty e sono qui tornato con un altro video su modern warfare 3 dopo tantissimo tempo tipo dopo anni e quindi sono qui felicissimo perché finalmente boh accontenterò un po di voi fans che volevano vedere video su modern warfare 3 e oggi giocheremo su village una partita di dominio e userò l'arma più conosciuta al mondo la k47 no silenziato così molto bomba un'arma che mi piaceva tanto su modern warfare 2 e ora mi sono contento l'hanno ripetata su modern warfare 3 e non è un'arma potentissima come la cr oppure come qualsiasi altra arma tipo il type 95 quindi il tipo 95 che sono queste armi che sono davvero una osa straspotenziata però alla fine quest'arma mi sembra niente male ora piano piano vedo più gente che la usa e boh mi fa felice no perché proprio stiamo ritornando ai vecchi giochi perché c'era anche su code 4 e comunque oggi volevo fare un commento un pochino diverso perché analizzerò delle clip perché sono successe cose strane in questa partita no ora già lì piglio un'esplosione sulla macchina perché avevo visto il sniper che ha cercato di fare la clip assurda su di me ho detto no ciccio bona che cazzo fai e comunque vabbè ora volevo spiegare un attimino perché sta senza su modern warfare 3 cioè già l'ho spiegata tante volte però mi sembra che la gente non lo capisce dice continua a commentare eh si ti chiami strategico call of duty gioca call of duty e ho detto va bene ragazzi cioè boh mi andava un pochino di fare qualcos'altro scusate cioè ora non mi sembra tutta proprio non mi sembra una cosa di da buttarci un botto di bestemmi sopra no perché poi alla fine eh la cosa è successo tantissima gente si è incazzata come una bestia proprio offendendo me offendendo mia mamma cioè che mi sembra una cosa davvero patetica della verità però a parte quello un'altra cosa patetica sono io che cerco di sparare con l'infiltrazione tattica cosa che non mi riesce quindi sono detto via bona ci foco il piede là al pesco così no e comunque ora tra poco succederà una cosa davvero strana cioè non davvero strana perché sto gioco succede ogni volta però vi farò vedere ora ve lo spiego allora faccio qui un uccisione no sto lì sto catturando la bandiera proprio un uomo un uomo un uomo di squadra sono no e uccido questo qui uno sniper dico via bomba vai c'ho c'ho il predator lo chiamo e boom vengo ucciso da quello lì che ho appena ucciso ragazzi cioè ma che com'ha ma tre arc ma non me lo puoi far nascere dietro l'umino cioè l'ho appena ucciso e guarda rianalizziamo sta clip l'ho appena ucciso oh infinity world me lo butta dietro che cazzo fa ovvio non riesco mai a fare un 10 uccisioni di fila perché c'è sempre un problema con questi spawns gente mi asce proprio dietro vabbè torniamo alla clip cioè alla partita se no mi piglia male allora ho ucciso qui sto andando un po' in giro comunque poi volevo parlare un attimino di come stanno andando le cose ora c'è gente che commenta che non faccio video sulla vita di Matteo la vita di Matteo è un video ce l'avevo detto proprio quando l'avevo creato però mi sembra che tante gente non l'ha visto quel video quel video cioè quel canale l'ho creato perché volevo fare dei video ogni tanto non è che lì non volevo prendere l'impegno di fare un video ogni giorno sulla mia vita perché poi alla fine qui la vita meri appena inizia a nevicare no come sta nevicando ora piglia davvero male cioè non fai un cazzo non esci di casa perché ci sono 15 centimetri di neve fa freddo poi non ti piace stare al caldo poi alla fine se vivi in America devi essere pigro stai lì a mangiare il peso no cioè proprio tutto il cibo si accumula sulla pancia e sulla pancia e poi non ti va più di andare da nessuna parte sei proprio lì proprio un fagottato di cibo non ti va proprio di uscire e quindi non è che posso mettermi a fare video della mia vita se non faccio nulla no perché poi alla fine qui durante la settimana non succede mai nulla va bene le feste ci sono sempre il fine settimana però alla fine durante la settimana non c'è davvero niente a fare non ci sono compiti non c'è niente a fare e quindi sto lì a o sto con la ragazza oppure sto già alla fredda cioè c'è un po' da fare non è che mi metto lì a fare i compiti cosa che non succede davvero mai anche se li dovrei fare perché perché non faccio più una sega ragazzi ve lo devo dire così non faccio più nulla cioè cosa bruttissima perché qui allora in America c'è una cosa che si chiama la senioritis che i senior sono quelli del quarto anno no che poi visto che in America il liceo è quattro anni il quarto anno loro mandano tutte le applicazioni al college una volta che ti accettano al college sei già dentro e di solito ti accettano attorno a ottobre, novembre no e quindi una volta che viene accettato proprio non c'è devi andare a scuola e basta non devi basta non che non non basta più di voti decente e andrei al college quindi tante gente una volta che succede non fa più un cazzo no tutti quelli del mio anno che sono già state accettate al college tutte queste cazzate non fanno più nulla cioè praticamente il livello di pigrizia io pensavo di essere pigro proprio un altro livello proprio take it to the next level proprio detto così a l'italo-americana no perché oramai l'accento non ce l'ho più però ogni volta che parlo con qualcuno in italiano e poi devo dire qualcosa in inglese boh mi viene da solo mi viene da parlare a l'italo-americana non è che io non ce l'ho questo accento non ce l'ho più l'accento io in inglese perché boh ora tanta gente manco se ne accorgi sono italiano cioè tipo ora quando ogni trimestre no quando c'ho dei nuovi prof io se non glielo dico che sono italiano non lo sanno cioè se ne accorgono un pochino da come scrivo no perché ovviamente la mia grammatica ancora non è che sia un granché però quando parlo nessuno se ne accorge che sono italiano a meno che non ci parlo per ore e ore poi ogni tanto sentono tipo la parolina lì con dietro proprio esce un po' uno svirgolaosi e dicono ma dove sei di dove sei e se no nessuno se ne accorge quando vado alle feste dove tutti ubriachi fratici nessuno se ne accorge quindi piglia bene e boh penseranno sono sono vengo da boh da qualche parte strana no e quindi piglia bene ora guarda guarda che mi è ucciso questo qui trtutututututu un buco di culo piglio il pevlot anche il pevlot mi piace tantissimo cioè è proprio una cosa potente no una volta sembra di chiamare un cararmato di buono E qui stavo un po' non molestando con queste armi E poi ovviamente piglio lo sniper Perché a me mi piace tantissimo usare lo sniper Però una cosa che mi fa incazzare dell'Xbox È che purtroppo non posso creare più di un account Se non devo, cioè dovrei pagare un botto di soldi al mese per avere due account Quindi ovviamente io che vado in giro con lo sniper Perché le clip non mi riesco mai no? Non è che dico ora vado a fare una quadfig con lo sniper Cosa che non succede mai perché faccio davvero schifo Poi ovviamente quando io uso il cecchino Non faccio manco una decisione Mi sembra che li prendo no? Mi sembra che li prendo ogni volta Però ogni volta manca un hit marker e niente O li manco le prime due volte e poi prendo un hit marker O poi nulla Cioè è una cosa davvero strana E vabbè comunque ora poi ci sarà un'altra clip che analizzerò Perché mi stavo un po' incazzando Perché non facevo manco un uccisione con lo sniper E pigliava davvero male E comunque vabbè Comunque a parte tutte queste cose tenutissie così così su Call of Duty e Modern Warfare 3 Volevo parlare un attimo di tutti voi che gli sono piaciuti i video Gli sono piaciuti i nuovi video su Skyrim, su GTA 4 Poche altri video ho fatto Basta mi sembra che ho fatto solo quei due video E ah no La serie Oh my god lol fail Che poi alla fine mi sono arrivati davvero tantissimi clip Cosa che sono molto felice Cioè mi fanno proprio felice sta cosa no Che alla fine di gente mi ha risposto E comunque analizziamo un attimino sta clip Allora qui come vedete la mia mire di merda con lo sniper E poi boom boom e piglio uno scope Così hit marker così la cazzo E boom mi succede davvero tante volte sta cosa Piglio tanti quelli hit marker Ora non come questo no Però piglio un pochino male Volevo torniamo un attimo al gameplay Che è un gameplay abbastanza lungo no Non è che è successo nulla Sono partito molto bene Ero mi sembra 25 e 1 E poi succede roba del genere Dove c'è gente che mi ruba le uccisioni così Poi ci sono problemi Poi c'ho la squadra che fa cacare la minchia Che ora appena tra poco vedrete Catturano A e saremo No catturano tutto tranne A E noi siamo lì non riusciamo a uscire da questa cazzo di zona E mi ammazzeranno un botto di volte E comunque e comunque Poi ora no Avevo intenzione di tornare a giocare in Modern Warfare 2 Ogni tanto no Perché quello lì è il mio gioco Mi piace davvero tanto E se di vuole andrò in giro a fare un po' di Di clips con l'intervention Perché mi piace davvero tanto L'intervention proprio mi dà Mi dà soddisfazione quando faccio un'incisione Poi Poi che altro Cioè boh mi sembra parlare molto Tanto veloce Ora mi boccevo tante idee che mi frullavano in testa E quindi ho detto via buttiamole tutte fuori Con vigore no Poi alla fine ci staccaverò Ora manco lo riascolterò questo video Perché non lo faccio mai E quindi lo Lascerò a voi commentare Su tutte le cazzate che ho detto Perché poi alla fine Io me la rido Ogni tanto quando sono in No ogni tanto Tante volte quando sono in classe Vado sull'iPhone E vado a vedere tutti i commenti Che avete lasciato sul mio video E io mi metto lì a ridere in classe No per quello che avete detto Che alcuni Commenti sono davvero fantastici Me la rido proprio in classe E poi ovviamente mi guarda Dice ma che cazzo Cioè Che cazzo si è fatto Questo video Se la sta ridendo da solo in classe No E anche mia sorella Ogni tanto mi vede lì Con il sorrisino Sto guardando giù Sto guardando al cellulare Sorrido Ma che cazzo Stai ridendo Scusa Ma come stai male E quindi poi Boom Volano le bestiemi Contro mia sorella Che è lei Ovviamente L'errore di Dio C'è poco da fare Comunque Comunque Poche altro Novità Novità Poche ragazzi Cioè Davvero Non faccio più nulla Non so sempre la ragazza Boh Se volete sapere Ah Ecco Gente Stimile c'è tanta gente Voleva che li presentavo La ragazza No E Cioè ragazzi Io ve la vorrei anche presentare Ora la devo convincere Un attimino Perché Già non gli piace tanto St'idea Che Che faccio Che faccio soldi Solo tramite Youtube Già non gli piace tanto L'idea Quindi prima di convincerla A Entrare in uno dei miei video Ci vorrà un pochino ragazzi Aspettare un paio di mesetti Se è dura sta cosa E ve la farò vedere E poi alla fine è carina Cioè Mio babbo è geloso Cioè Rendetevi conto Mio babbo Prima volta l'ha vista Ha fatto Non ha detto nulla Ha salutato Era lì un pochino Imbarazzato E poi appena se ne è andata Ha detto Ma dove cazzo l'hai trovata questa Ma come hai fatto Poi c'è mia mamma Che mi insulta Quando Quando tipo litighiamo Tipo io Abbiamo già litigato L'altro giorno Io e le mie ragazze Quindi sono tornata a casa Un po' incazzato E Mia mamma fa Cosa hai fatto? Io Mamma non ho fatto nulla Cioè cosa stai dicendo? Non ho fatto no Si vede che di sicuro Che è litigato la ragazza Ho detto Brava mamma Cioè Proprio mi riesce a leggere Nel pensiero Comunque aspetta Ecco Devo analizzare questa clip Perché davvero A me questa cosa Mi succede davvero tantissime volte Mi sembra Sto sparando mezz'ora A questo qua E mi sembra che i miei proiettili Vanno attraverso la persona Non mi fanno niente Oppure sono fatti di gomma Più ma Cioè guardate lì Lo sparavo per mezz'ora Non ho fatto manco un colpo Torniamo al clip Che manca solo un minuto Comunque Mia mamma mi fa È litigato per forza Con lei perché Mi sembri boh Tutto così giù E ho detto Eh sì Vabbè mamma Diceva che era un po' Uno stronzo E lei fa Cosa? Se non è stato uno stronzo Con questa ragazza E hai fatto Eh sì Mamma Non è che l'ho fatta apposta Perché poi alla fine Ovviamente non è mai colpa mia E E mi fa Eh sì Se è uguale a tuo babbo Che Tu babbo è sempre stato uno stronzo Con tanta gente Ha fatto dei casino Nel passato E' stata lì a parlare per mezz'ora Oh ragazzi Non smetteva più Una cosa davvero assurda E quindi Boh Ora Tutto sistema Siamo felici insieme E quindi piglia bene Ora partita finita 35.8 Niente male Però Boh Posso fare di sicuro di meglio Se gente non mi uccide così tanto Così spesso Quindi ragazzi Spero vi sia piaciuto questo video Ricordatevi di lasciare un commento E Se vi è piaciuto Mettete un bel pollicione in su Aiuta davvero tanto Se volete Se volete vedere altri video Andate sul mio canale Metterò il link alla fine di questo video Io ragazzi Boh Sto parlando troppo veloce E vabbè Ragazzi Io vi saluto Buona cicci Ci vorrebbe una canzoncina No? Tipo Buona cicci Tan 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 Tipo una canzoncina di chiusura Vabbè Buona cicci Buona ciccina di chiusura